di Mobius. Questo, un oggetto che ha una sola superficie e un solo spigolo, chiamiamolo così. Non ci siamo ancora, perché questo oggetto non ha piani di simmetria. E voi dite, ma a me che me ne frega? L'entropia e la simmetria sono fondamentali. Se questo oggetto non ha un piano di simmetria, se te lo metti di fronte a uno specchio, scopri che lui ha un'immagine speculare. Prendi l'immagine speculare, la sovrapponi a questo signore qui e scopri che non è sovrapponibile. Questo vuol dire che ci sono due nastri di Mobius, non uno solo, ancora una volta. A Napoli dicono nata volta. C'è un universo e c'è un altro universo, un antiuniverso. C'è un solo modo per fare in modo che il nastro di Mobius diventi in realtà una cosa sola. Togliere il buco nel mezzo. Nell'istante in cui toglie il buco nel mezzo il nastro di Mobius diventa questa strana farfallona con questi strani due coni. Guardate, questa roba qui ha un solo piano e un solo asse. Guardate, se voi riuscite a farlo girare, io ve lo faccio girare. Così, gira, va sotto, rifà un altro giro sotto e ritorna sopra. Così le due superfici sono una superficie sola. Lo vediamo meglio di qua. Guardate com'è fatto in alto, come è fatto di traverso. Questo è il nastro di Mobius con una sola superficie e ce n'è uno solo perché c'è un piano di simmetria. E averci un piano di simmetria, piano di simmetria è dove ti specchi, è questo qua, taglia nel mezzo una parte identica all'altra. Questo vuol dire, in geometria, che se ti prendi questo oggetto, lo metti davanti a uno specchio, la sua immagine speculare la prendi, la togli e ce la metti sopra è perfettamente sovrapponibile. Lo so che non ci avete mai pensato, ma le cose che non hanno piani di simmetria sono otticamente attive. Cioè c'è una cosa A e una cosa B, come gli aminoacidi, gli aminoacidi L e D, R e S, rectus e sinister, dicono i chimici. Se invece te c'hai un piano di simmetria, la tua immagine speculare e te siete uguali. Quindi c'è un oggetto solo. Bene. Per spiegare questo agli studenti mi ci vuole due ore, quindi lo so che a qualcuno di voi può sembrare complicata la cosa. Però siamo riusciti a fare una cosa. Siamo riusciti a creare questa specie di farfallona che comunque, come potete vedere, si sovrappone perfettamente al pattern e tiene conto di tutta la geometria del pattern. E qui dobbiamo dare un'informazione. Ma che cos'è un ologramma? Un ologramma è una cosa, una fotografia, che può essere tridimensionale, come in questo caso, o in questo caso in realtà è bidimensionale. Bene, questa fotografia ha una caratteristica. Se te ne strappi un pezzettino, un pixel solo, dentro quel pixel di quella fotografia ci sono tutte le informazioni della fotografia grande. Però te non le vedi, perché in un pixel te non è che vedi tutta la fotografia, hai fotografato la madonna. Ne prendi un pixel e lì dentro c'è una madonnina piccola piccola. Però il rapporto tra segnale e rumore di fondo è talmente sfavorevole che te non vedi una mazza. Ma questo cosa vuol dire? Che l'ologramma è la rappresentazione dell'universo come noi la conosciamo. Se l'universo è un ologramma, infatti, ognuno di noi, fai conto, coscienzialmente è un pixel. Dentro di noi ci sono tutte le informazioni della coscienza generale. Però il rapporto segnale e rumore, che noi chiamiamo consapevolezza, è a nostro sfavore. Noi non vediamo niente. Nella realtà, nella vita, quando noi cominciamo a creare l'universo e andiamo avanti, il rapporto segnale e rumore di fondo diventa più a favore del segnale. Quindi il rumore di fondo si minimizza, il segnale viene fuori. Alla fine dell'universo ogni pixel che siamo noi ha la consapevolezza e la coscienza di tutta la coscienza. E questo è quello che poi racconta il secondo principio della termodinamica, se letto in questa misura. Allora, l'universo, se l'universo è un ologramma, è anche un frattale, perché ogni pixel piccolino piccolino è la rappresentazione di un mattoncino piccolo con cui costruire tutto l'universo, che è un mattone grande che sembra uguale a un mattoncino piccolo piccolo. Questa è la definizione di frattale. Quindi dire frattale e dire ologramma è la stessa identica cosa. Gli ologrammi si caratterizzano da avere tre dimensioni, come noi. Spazio, tempo e energia, sul piano, ma anche spazio, x, y e z. Tutto è tridimensionale. Gli antichi la chiamavano Trimurti. Sapete? Trimurti è Shiva, Visno, tri vuol dire tri e murti vuol dire immagine, cioè una tripla immagine. Gli antichi sapevano che l'universo è un ologramma e che noi vediamo le immagini, ma che la realtà è un'altra cosa. I neuroni, i neuroni del cervello si piazzano nello stesso modo del frattale, nello stesso identico modo e qui ci sono dei lavori scientifici che mostrano questo. Guardate queste immagini noi le abbiamo prese da lavori scientifici pubblicati in letteratura, dove si vede che ci sono dei percorsi neuronali, fatti in questo modo qui, che fanno vedere che il frattale è praticamente rispettato. Guardate qui ci sono tre scatolette, una scatola con un topo, c'è sempre il topo con i percorsi che fa per trovare il cibo. Che cosa hanno studiato questi scienziati? Cosa hanno visto? Poverini, il topo ci mette i massacri, ci metti dentro il cervelletto degli elettrodi e guardi cosa fa il topo a distanza sul computer. Ebbene, si è visto che la mappa cerebrale delle zone che riguardano il percorso che il topo fa, sono identiche al vero percorso che il topo fa, cioè il topo fa un percorso per raggiungere il formaggio, che è identico alla sequenza di alcuni neuroni che mimano questo percorso. E guarda caso, questi neuroni si mettono tra di loro in posizione tale da mimare il pattern. Questa è una cosa veramente incredibile. Le reti neurali possono essere quindi simulate al computer, ecco cosa voleva dire SOM, self-organization map, e possono simulare il funzionamento operativo del cervello. In altre parole, noi abbiamo questo pattern e in un lavoro scientifico loro simulano il pattern semplice con questa figurina qui, dove ogni cerchio è un neurone. Ancora una volta, a cosa gli è venuto? Non lo potevano mettere a rettangolo, no? L'hanno messo in quella misura lì, in quella forma lì, in quella geometria lì, perché dentro di te il tuo cervello è fatto così e crea all'esterno la realtà come tu non sai neanche di avere dentro. È una cosa che viene spontanea. Guardate questa figura. Molti di voi, non so se tutti, ma sicuramente la maggior parte, non riesce a vederla tutta questa figura. Non riesce a vederla tutta, ci sono dei lavori pubblicati che qui si vedono male, ma qui sotto c'è i titoli, di alcuni neurofisiologi che dicono che siccome sostanzialmente il cervello ha una struttura di questo tipo, l'occhio non riesce a riconoscere all'esterno la struttura che tu hai dentro di te. Completamente non riesce a vedere che ci sono dei punti e a vederli tutti insieme. Qui ci sono dei punti, vedete questo punto qui per esempio, se lo vedi non riesci a vedere questo, va in risonanza il cervello e questa risonanza accade solo perché il cervello è fatto come un pattern. Quindi il nostro cervello riconosce i percorsi che tu stai facendo per andare da Roma a Milano come se fossero una serie di pattern legati insieme, che mimano una serie di pattern neuronali che ti hai nel tuo cervello. Non si esce da lì, non si scappa da lì. Io mi sono divertito poi a fare una rete neuronale. Ora qui c'è il modellino, ma noi l'abbiamo fatta con le animazioni. A quei tempi funziona in questo modo. Ci sono i punti di Hartman e i punti di Carri, che non a caso mimano le sefirot della struttura della cabala ebraica, ma dando opportunamente corrente a solo determinati punti, lo vedete sotto, i punti di Hartman e i punti di Carri rispondono come attrattori di energia ed emettitori di energia. Che strano, no? Questo vuol dire che c'è una vera e propria struttura geometrica che corrisponde sempre con delle regole che sono sempre le stesse. Questi segnaletti che voi vedete, queste barrette, che sono collegate a tutti i neuroni, ogni punto di Hartman e Carri è un neurone, vedete che hanno una geometria precisa, cioè tum tum tum, emettono corrente elettrica e qualche istante prima quello accanto la assorbiva e così via. Ci fanno dei lavori scientifici su questa roba qua. Eh sì, qualcuno ha scoperto una cosa incredibile. Io a volte dico ma non è possibile. I neuroni del cervello stanno tra di loro distanziati a multipli di pi greco. È pazzesca questa cosa. E poi in questi lavori hanno trovato questi pinwheel che sarebbero punti di torsione. Cioè, come vedete qua, i pinwheel si radunano in colonne verticali nel cervello umano, nella corteccia cerebrale, responsabile della visione e la loro distanza, come vedete sempre multipli di 314. Questo sostiene il professor Fred Wolf che con opportune tecniche vede i vari neuroni caricarsi e scaricarsi cambiando colore proprio come nella nostra simulazione. Ancora una volta il cervello umano è fatto come il pattern. Questi, molti di voi li conoscono, sono gli occhiali di Bates. Quando uno non riesce a mettere a fuoco le cose, per esempio io che sono mezzo cecato, con gli occhiali di Bates mi trovo meglio. Perché? Perché questi occhiali, oltre che, vedete, per coloro che sono miopi, per coloro che sono presbiti, non si riesce a mettere a fuoco nel punto giusto dell'occhio l'immagine. Con questi occhiali che sono fatti di forellini, invece questa cosa torna perfettamente. Che cosa stiamo facendo? Vedete, una farfalla in basso, come si vede bene attraverso gli occhiali e come si vede sfocata senza gli occhiali per uno che ha questi due difetti. Io sicuramente rientro nel primo e nel secondo messi insieme. Non mi faccio mancare nulla. Ma quello che potete vedere voi è che ora riconoscete in quei puntini la struttura del pattern di Hartmann e Carri. Che cosa sta succedendo? Perché le cose funzionano così? Ci sono molti motivi, ma uno di questi motivi è la reinterpretazione che il tuo cervello fa dell'immagine che vedi. Cioè hai ricordato dove non sei più capace di farlo, che tu devi vedere un'immagine esterna come fosse un pattern di Hartmann e Carri. Allora il tuo cervello si rimette in risonanza anche se il tuo occhio vede male e riesci inconsapevolmente a rivedere meglio. Avevamo cominciato dal Feng Shui, certo, e dall'imperatore cinese, venuto dallo spazio, che aveva costruito le piramidi in Cina e ci cominciamo ad accorgere che l'universo è fatto con un pattern. Se noi riusciamo a capire bene come funziona questo pattern e lo applichiamo poi al mondo della finanza, vuoi vedere che succede qualche cosa di interessante? E qui c'è una cosa. Ma questa cosa qui è vera solo nello spazio o è vera anche nel tempo? Perché lo spazio e il tempo sono collegati tra di loro, sono collegati tra di loro nello stesso modo. La fisica moderna non dice che esiste lo spazio e che esiste il tempo, dice che esiste lo spazio-tempo e poi c'è l'asse dell'energia. Allora analizziamo il complesso di Giza, sapete quello delle piramidi? Perché? Perché torniamo indietro nel tempo e andiamo a vedere se i nostri antichi costruivano le cose come le costruiamo noi. Così potremo dimostrare per la prima volta che anche nell'antichità, cioè in un tempo diverso da quello di ora, il pattern funzionava sempre, quindi è un pattern atemporale. Voi avete la cartina qui dell'immagine delle tre piramidi e cominciamo a vedere che la sezione aurea ha una caratteristica fondamentale, cioè se te la chiocchi in un punto preciso, vedi che in quel punto la serie dei numeri di Fibonacci segue esattamente i tre spigoletti delle tre piramidi, cioè i tre oggetti che noi esaminiamo qualcuno li ha messi in condizione di essere correlati alla sezione aurea. Ci hanno provato in tanti, ci riproviamo anche noi, ma ci mettiamo il pattern sopra e siccome il pattern, l'avete visto all'inizio, è fatto con i numeri della sezione aurea, ecco che ci aspettiamo una sovrapposizione precisa. Tre giri di Fibonacci mostrano che partendo dallo stesso punto ognuno dei tre giri va a sbattere con tre spigoli delle piramidi. Ancora una volta tutto è costruito con la stessa geometria e qui c'è qualche cosa di sconvolgente. Facciamo finta che questa sia una piramide, una delle tante piramidi costruite nella piana di Giza. Allora guardate, ci sono delle dimensioni precise e bisogna fare delle osservazioni. Gli antichi egizi, no, i moderni egittologi, non capendoci niente di quello che è lì, si devono per forza arrabattare e inventarsi delle cose. Una delle cose che si sono inventati è che la piramide è stata costruita sulla base di una misura che sostanzialmente è 44,7 centimetri, che è il cubito. Il cubito è 44,7 centimetri e con questo ci costruiamo tutto. Allora, vai a vedere la storia e ti accorgi che non è così, perché innanzitutto questa misura è una misura interpretata, perché ti esposti di 10 metri, vai in un'altra contea, si direbbe così, e scopri che invece di 44,7 è 52,8, 44,3, cioè sto 44,7 se lo sono tirato fuori dal cappello. Ma si scopre anche un'altra cosa, la logica. Guardate, la scienza si fa con la logica, cioè te devi avere logica, perché se no fai come un mio studente. Un mio studente un giorno venne, eravamo in laboratorio, facevamo le prove in laboratorio, mi porta, fate conto, una mela, non era una mela, ma era un aggeggio che doveva pesare con dentro della roba. E mi dice, professore, l'hai pesata questa roba? Sì, sì, quanto pesa? 5 chili. Come 5 chili? Peserà 10 grammi. Ma la bilancia mi ha detto 5 chili? Ma la bilancia sarà rotta. Ah sì? Ah no? Che pensi? Che quello pesa 5 chili? No? Allora ti vaccini. Cioè, la logica è logica, è logica, è logica. Ecco, 44,7, qualunque cosa fosse, non poteva essere un cubito, perché l'idea del cubito è legata all'idea della misura. Quando sono state costruite le piramidi, secondo quel signore che si chiama Zacchiawas, circa 2500 anni prima di Cristo, questi non sapevano né leggere né scrivere, che sapessero che cosa cazzo fosse un cubito. Non lo potevano sapere. Quindi questo 44,7 viene da un'altra parte e infatti si scopre che è 45. L'angolo di 45 gradi, che è moltiplicato per la sezione aurea, dà un valore importante che è 72,9, in realtà 72,8,9, insomma è un numero complesso, complicato. E che è la distanza tra il punto O e il punto B, che è l'unità di misura di tutte le piramidi. E che è il punto O, la distanza tra O e B, nella piramide più piccola di Bicerino, che quindi dà origine a tutte le misure di tutte e tre le piramidi. Come si legge questa tabella? Guardate, c'è la freccia che dice 72,89, è esattamente il BO della piramide di Micerino. Prendiamo questo come punto di partenza. Certo che voi non ve ne accorgete che nel pattern che abbiamo fatto di trading c'è il 72,89, non ve ne accorgete, perché è inutile spiegare che c'è questa roba dentro, però c'è... Allora, guardate, questo è il numero, conta per uno, vedete? Conta uno. Eh, non c'è più. Succede qualcosa, ma ora mi chiamo... Eccolo lì. Conta uno. Vedete? Ora lo ritiro fuori. Eccolo qui, uno. È l'unità di misura, che è uguale alla sezione aurea moltiplicata all'angolo di 45 gradi. È un numero. Quindi pensate, un angolo e una distanza. Qualcosa che ricorda molto le coordinate polari. Allora, se te prendi per esempio la distanza cheove, la prendi e prendi questa qui, che è 229 e rotti, e sotto c'è scritto pi, che vuol dire pi greco, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire che se te moltiplichi 72 e 89 per pi greco, ottieni 229 e rotti. Nello stesso modo, questo numero qui, se lo moltiplichi per 3, ottieni il numero di sopra, che è la stessa misura per Kefren. Se moltiplichi questo numero per un altro qualsiasi, pi diviso 2, cioè la metà di pi greco, ottieni questo numero qui. In altre parole, tutte le misure di tutte e tre le piramidi sono legate a multipli di pi greco, di radice di 2 e di 3, passando per il 72 e 9, che è 45 gradi per sezione aurea. Questo cosa vuol dire? Che tutti questi oggetti sono costruiti su una stessa base. E scopriremo che questa base è il pattern, perché nel pattern ci sono due aree molto importanti, l'area B e l'area A. E come vedete, l'area B è 72.899, proprio uguale a quel numero misterioso che è legata a l'unità di misura con cui è stata costruita tutta la piana di Giza, e sotto 69.1150, che è l'altra area dell'altro pattern, che sono numeri che sono in rapporto tra di loro e definiscono il pattern, le aree dei pattern. Questo cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che questo misterioso numero, 72.899, è il numero di una civiltà che sicuramente non usa i numeri decimali, 1, 2, 3, 4, 5, ma usa, che ne so, numeri tipo pi greco, non è roba nostra. E infatti guardate cosa succede. Per esempio, se te prendi 169.115 e lo dividi per 72, cioè fai la divisione A diviso B, la moltiplichi per 10, ne fai il quadrato, e lo moltiplichi per 360, viene questo numero, 179.88, che è un angolo, cioè 180 gradi. Ma dice, ma non è 180 gradi? Certo, c'è una differenza, e questa differenza è proprio 0, 11, 4, 5, 5, 1, 0, 4, 3. Ne fai il logaritmo in base 2 e viene esattamente 3, 14, 15. Cioè lo scarto che te hai da quello che ti aspetti che sia e quello che in realtà è sempre un sottomultipro del pattern. Cioè non esiste l'errore, l'errore è un patternino piccolo piccolo, e questo è veramente incredibile. L'area del pattern di Carri diviso l'area del pattern di Hartman, per esempio, è quello che vedete voi, cioè alla fine è pi greco diviso radice di 2. E sono i numeri delle aree di Hartman e Carri che si rifanno alle misure della piramide di Cheope, all'altezza della piramide di Kefren. Per esempio, guardate questa cosa incredibile. Il rapporto tra B e A è un numero che è 1,054,75, eccetera, eccetera, che mima la radice di 2, che mima le stesse cifre della costante di Planck ridotta, si chiama così, H tagliato. E che chiamiamo C? Questo C, se io lo elevo a pi greco e lo elevo alla quarta, dà esattamente 180,0000000000. Non può essere un caso. Tutti i numeri dell'ologramma sono alla fine numeri che non hanno unità di misura e alla fine sono angoli, solo angoli, perché l'unica cosa che conta nel pattern è la geometria. Quindi le piramidi sono costituite sul pattern di Hartman e Carri e si possono fare dei calcoli. Vedete, per esempio, la lunghezza AB moltiplicato per la lunghezza di Hartman diviso 180 dà esattamente pi greco per Cheope, dà esattamente 3 per Kefren, dà esattamente radice di 2 per Micerino, come nella tabella che vi avevo fatto vedere prima, che mi sembra sia questa. Questi numeri qui, li rivedete qua, vedi? Pi greco, 3, radice di 2. Capite che i numeri di Hartman e Carri entrano nella costruzione delle piramidi? Ma a quei tempi Hartman e Carri non c'erano. Questo cosa vuol dire? Che chi ha costruito questa roba, le piramidi? Chiunque esso sia, anche se viene dall'alfa dei centauri, è assoggettato anche lui alle regole di Hartman e Carri, perché non sono le misure di Hartman e Carri, sono le misure dell'universo. Questa poverina, nella piramide di Cheope, noi abbiamo trovato delle cose incredibili. Questa cosa qua è la sezione, vista dall'alto, di quella specie di sarcofagone gigante, ci abbiamo sovrapposto il pattern di Hartman e Carri e esattamente ha le stesse proporzioni. Non solo, ma come potete vedere da questi numeri, che hanno significati precisi, questi numeri rientrano tutti nel pattern di Hartman e Carri. Per esempio, 145.8, che è l'altezza della piramide di Cheope, se te la moltiplichi per 3.89, che è la frequenza a cui vibra la parte animica, questo è un discorso che noi abbiamo preso da un altro lavoro che abbiamo fatto tanti anni fa, dà un valore che se diviso per 14, 14 sono il numero degli step di Hartman, 7 più 7, dà sostanzialmente 2.468.413. Ma che cos'è 2.468.416? È un sottomultiplo della sezione aurea, perché se lo dividete per due dà 1, 2, 3, 4, che è l'inverso di un sottomultiplo della sezione aurea. Vedete come tutto in ogni caso torna sempre lì, basta saper gestire i numeri, ovviamente. E i numeri del sarcofago di Cheope sono quelli lì, c'è poco da fare, anzi, nei conti che voi vedete, ma voi potete controllare nella bibliografia che non mi sono inventato nulla, il volume di tutto l'oggetto è sostanzialmente il doppio esatto del volume interno del vuoto, il doppio esatto. E quello che si vede dalle misure, qui non le abbiamo riportate, di questa roba qua, questa roba qua è proporzionale alla sezione aurea, a 4.32 e a bigreco. Allora non è possibile che questi signori abbiano costruito a caso, perché a caso non si costruisce nulla. Domani mattina io voglio fare un bicchiere, inevitabilmente sarò costretto a farlo con le proporzioni del pattern. Sì, qui c'era scritta un'altra cosa, in basso, qui c'è scritto, vedete, il numero 1.976 per 2 alla quarta, eccetera, eccetera, è sostanzialmente mille, la radice quadrata di mille, che è 31.622. Questo numero qui, che viene fuori, è una delle due aree, l'area per esempio del buco del mezzo, è esattamente uguale a questo, dà origine a questo numero, 31.622. Se te prendi 31.622, questo è un numero che ne fa l'inverso, viene 0,31622, cioè è un numero il cui inverso ha le stesse cifre e questo numero qui è esattamente quello che viene dal nostro Evideon, perché trasformando, non ve lo faccio vedere perché non ha senso, i numeri degli spazi in suoni da 20 Hz a 20.000 Hz, più o meno è quello che l'uomo riesce a sentire con l'orecchio, in Hz, quindi questi sono Hz, il rapporto tra gli estremi degli assi, qualsiasi asse prendi, dà sempre 31.6 e rotti, cioè tutto è costruito sul pattern. Ma i satelliti artificiali, i satelliti naturali, i pianeti e questi come sono messi tra di loro? Che cosa hanno a che fare col pattern? Hanno a che fare qualcosa? Sì, certo, guarda, c'è un signore, anzi sono due signori, uno che si chiama Titius e l'altro che si chiama Bode, che hanno fatto una formula, una formula che mette in relazione, ma ne siamo nel minuto 100, una relazione tra la distanza dei diversi pianeti del sistema solare in unità astronomiche con i numeri della sequenza, primo pianeta, secondo pianeta, terzo pianeta, per esempio la Terra è il terzo pianeta, n uguale a 3, unità astronomiche uguale a 1, poi c'è la costruzione di tutto il sistema solare. Ebbene, per capire bene come funziona questa norma c'è una formula, o meglio, la formula di Titius che è questa, 0,4, quindi A, che è la distanza in unità astronomiche dal Sole, è 0,4 più 0,3 per 2 alla n, che nel caso della Terra è U. E viene esattamente la distanza di questo pianeta dal Sole. C'è un piccolo problema, non si sa perché, non lo sa nessuno, però funziona, funziona questa cosa e allora la NASA cerca anche di migliorare con un secondo algoritmo, che è quello che vedete sotto. Aspetta che te lo rifaccio vedere, che se no. Quello che vedete sotto, eccolo qui, è la formula che ha fatto la NASA, più complessa, più complicata. Sotto c'è un altro astronomo che si chiama Lascar, che ha fatto questa struttura, però K, che è una costante arbitraria, che vale 0,14. Ma che è K? Boh, non lo sa nessuno, però la formula funziona. Notale, che è un importantissimo matematico francese, ha fatto un'altra formula con due costanti, perché una non basta, ce ne vuole una per i pianeti vicini e un'altra per i pianeti lontani. Sì, meraviglioso, eccezionale. Queste formule vengono utilizzate dalla NASA per trovare anche ipotetici pianeti extrasolari. Che bello, ma che cazzo sono sti numeri? Non lo sa nessuno. Allora, siccome io mi sono detto che il pattern deve valere per tutti, mi fai vedere se qui dentro c'entrano le misure del pattern. Questo è il nostro sistema solare. Ecco, vedete subito una cosa, che se il pattern è la misura di come è costruito l'universo, il nostro sistema solare ha avuto qualche problemino, perché non è perfetto. C'è qualcosa che... Questi sono i pianeti lontani che voi vedete, perché i pianeti vicini sono questi qui dentro, ora li vediamo meglio. Questi ancora peggio, cioè ci sono delle perturbazioni molto forti, ma le perturbazioni devono tenere presente sempre del sistema di pattern, perché si saranno allontanati dalla realtà del pattern, ma con dei numeri che sono proporzionali al pattern, perché tutto il sistema è frattalico. Andiamo a vedere. Questi sono, guardate, i pianeti vicini scazzano alla grande. Ecco, diciamo così. Quindi questo cosa vorrebbe dire, tra parentesi? Ci dà un'informazione che in passato è successo qualcosa a questo povero sistema solare che era un po' sciaccagnato, come dicono delle parti di Pisa. Sciagattato, come dicono dalle parti di Livorno. Infatti, tra i pisani e i livornesi sono come tragani e gatti. Bisogna cercare di capire da dove viene questa formula. Questo è il pattern che ci viene fornito. Alcuni pianeti non erano stati neanche scoperti, sono stati scoperti dopo, ma sono in relazione a quello che è il pattern di Titius e di Bond. Questo è un altro diagramma che mostra esattamente come in qualche modo tutti i pianeti del sistema solare, chi più chi meno, sono quasi una retta, si adattano perfettamente a queste equazioni, a questo tipo di equazione. Non solo, ma questi sono i satelliti di Urano. I satelliti di Urano, applichi la formula, guarda, è una retta, è incredibile. Ma questi numeri da dove vengono? Qui ancora una volta un altro grafico che mette ancora in modo più preciso, ma parte tutto da Titius e Bond. E noi abbiamo cercato di capire. Allora, non solo, ma c'è un altro ricercatore che è giapponese, che è questo Timon di Roma, che utilizza l'equazione Titius-Bowd per calcolare la distanza degli elettroni dai nuclei degli atomi. E gli viene bene lo stesso. Ci deve essere una legge naturale sotto, precisa. E allora, se esiste il pattern, noi andiamo alla ricerca di questo pattern. Guardate cosa abbiamo fatto. cominciamo tutto da capo. Io sono uno che non sa nulla, prende i dati delle distanze dal Sole in unità astronomiche, ci mette in uno dei pianeti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, li dà da mangiare al computer. Il computer da solo ti dice, te la do io la legge. La legge è Y uguale ad A più B logaritmo naturale di X, dove A e B sono delle costanti. Che mi calcola il computer? Che meraviglia! Allora vado a vedere che cosa viene fuori. e scopro che questa curva è praticamente precisa, o quasi, tutti i corpi più importanti che noi abbiamo, fino ad Eris, che è un mega pianettone lontano, subito dopo Plutone, poi c'è il Tuno, Urano e così via. vedete come il calcolo fa vedere la esatta posizione dei pianeti, quindi il computer ha trovato una giusta equazione. Però l'algoritmo di partenza è stato modificato facendo delle cose. Cioè l'algoritmo di partenza è logaritmo naturale di qualcosa, di X. Logaritmo naturale della distanza. Invece di usare logaritmo naturale ho usato il logaritmo di 2, in base 2. Perché? Perché il pattern si basa su una visione duale dell'universo, dove ci sono i buoni e i cattivi, l'acceso e lo spento, la sintropia e l'entropia, eccetera, eccetera. Allora per fare questo, il primo coso che mi dava il computer era questo. Le costanti erano queste, 2,8736 più 1,876 logaritmo di X. Dove questi numeri erano stati tirati fuori dal computer a cazzo, però descrivono bene la curva. Io trasformo la prima equazione nella seconda usando il logaritmo in base 2 al posto del logaritmo in base E. Questi numeri vengono modificati e diventano 1,44 per Y moltiplicato 4,14 più 1,876, eccetera, eccetera. Ma questi numeri ancora non mi dicono nulla, se non che la struttura di sotto è la stessa della struttura di sopra, perché 72,9 moltiplicato 2, vedi che fa 1,44. Lo vedi? Allora, te che cosa vedi? che qui c'hai, guarda, qui c'hai 431,8588, è ritornato fuori anche il secondo numero e poi c'è E, il numero di Eulero, moltiplicato 69,1150. Ma questi sono i numeri del pattern. Mi fai vedere che differenza c'è tra questa che ho calcolato alla fine io e la prima? e lo vediamo nell'altra depositiva. Voi non ci fate caso e credete che ci sia una sola riga gialla, invece ce ne sono due, una gialla e una blu sotto, che sono il primo algoritmo e il terzo algoritmo, che sono talmente vicini che se ne vede una sola. Che cosa vuol dire questo? che abbiamo messo in relazione il movimento, la distanza dei pianeti del Sistema Solare, il movimento degli elettroni, il movimento dei satelliti di Nettuno con i numeri del pattern, con un errore praticamente trascurabile. Cioè la nostra formula è meglio di quella di Titus Bode, è meglio di quella della NASA, ma si basa sempre sul solito numerino, 72.9, 69.115 e così via. Ecco, il 69.1150 è uguale a un sacco di cose, guardate, è uguale a 22 per pi greco, ancora una lunghezza o un angolo per una distanza. Come vi ricordate, 72.9? 45 per sezione aurea, ma è anche uguale alla cotangente della sezione aurea al quadrato, ma è anche uguale a 432 per pi greco al quadrato per sezione aurea, ma è anche uguale ad E per la sezione aurea al cubo. È sempre 69.115 almeno di qualche approssimazione che dipende da come che calcoli la sezione aurea. Se la calcoli a 1, 61, 8, 0, 33, 0, 34, 0, 33, 9. E poi sotto c'è un numero incredibile, ma che cazzo è quel numero lì? È anche uguale a 2 alla 31 moltiplicato 8, 6, 1, 2, 8, 5, 4 per 360. Sì, ho capito. Allora è uguale anche a Gesù bambino moltiplicato per la Madonna diviso 3. Che cosa sono questi numeri? Questi numeri li abbiamo calcolati sotto. Guardate cosa c'è scritto sotto. Sotto c'è. Ora vi trovo. No, sì, aspetta, aspetta. Aspetta, eh. Troverò prima il buo. Eccolo qua. 23.9245. Che cos'è? È qualcosa che assomiglia a 24. È la durata siderale del giorno. 23 ore, punto 9, tutti quei numeri che seguono. Un numero complesso. Non è 24 ore. Questo lo sappiamo tutti. Quello è il numero vero. Il numero vero che cosa ne abbiamo fatto? Il numero vero l'abbiamo moltiplicato per 60 secondi e per 60 minuti. Cioè abbiamo calcolato i secondi che ci sono in una giornata. In un giro. Abbiamo moltiplicato tutto per 360. Abbiamo ottenuto quindi una geometria sferica. Questa geometria sferica è per questo che ne facciamo il cubo. Vedi, l'abbiamo elevato a un terzo. E questo numero, che è quello che viene fuori, 86, 128, punto 54, per 360, radice cubica, è esattamente uguale a 100 volte pi greco, fino alla decima cifra dopo la virgola. Lo sapete? Cosa vuol dire? Vuol dire che quando la Terra si muove nella galassia e fa un giro intorno alla galassia, ancora una volta viene fuori lo stesso numero del pattern, tra cui pi greco. E quando noi moltiplichiamo questo, lo dividiamo per 2 alla 31, una potenza di 2, perché l'universo è duale, a ridagli col 69, 1, 1, 5, 0. Questo vuol dire che il movimento della galassia è il pattern di Hartman e Kerry. A questo punto, siccome siete sicuramente fusi, vi diamo 30 minuti di tempo per respirare e poi torniamo qua. Grazie.